In un futuro non lontano, la libertà dell'essere umano è in pericolo. Il mondo è controllato dalla grande Zeta, la Zimurg Corporation. I confini dell'esistenza saranno per sempre abbattuti. La legge Schuster sull'ecosostenibilità dei supporti regna sovrana. Sta arrivando il giorno della resurrezione. La carta è un bene raro. Stampare è reato. Ma proprio nel precursore della carta, un antico papiro, è celata la verità. Il collegamento tra l'oscura era di Osiride e la luminosa era di Horus. Grazie a tutti. Grazie a tutti.